E rieccoci qua! Buon martedì a todos! Io prima di cominciare con questo video vi invito a vedere il video di oggi se l'avete ancora fatto, mettere mi piace, commentare sia questo che il video precedente, iscrivervi che è molto importante per rimanere aggiornati sulla pubblicazione di video e invitarvi questa sera alle 21.30, dalle 21.30, sulla piattaforma Viola per il corner rosa-nero. I link sono in descrizione, comunque basta cercare con Dispa sulla piattaforma Viola e lì risponderò a tutte le vostre domande, parleremo di mercato, sugli ultimi aggiornamenti, eccetera, eccetera. In descrizione troverete un'app da scaricare, è gratis, fatelo e fatemi sapere cosa ne pensate, non ve ne pentirete. E poi c'è anche il link del gruppo Telegram. Lo dico a bassa voce perché è una cosa a cui tengo. Entrateci perché riceverete tutte le notifiche in tempo reale per il mercato del Palermo, basta solo quello, e poi sull'uscita del video rimanete sempre aggiornati, siete sempre i primi a sapere le notizie e non solo. Quindi fatelo. Raga, è ufficiale, non è ancora ufficiale, ma è ufficioso, possiamo dire. Il mio panettiere, il mio panettiere è di Marzio, era una battuta, potevo risparmiarmela. Comunque, stavo dicendo, è quasi ufficiale, ne ha parlato di Marzio qualche minuto fa, ormai sarà passata pure un'ora quando uscirà questo video, forse pure due. Davide Bettella è praticamente un nuovo giocatore del Palermo. E voi direte, ma chi minchia è Davide Bettella? Adesso ve lo spiego io. Ma prima di parlare del classe 2000, che, ascoltatemi bene, non occuperà lo slot perché vi ricordo, ne abbiamo parlato nel video di oggi, i tesserati che sono nati dopo il prima, sì, del 31 dicembre 98, possono essere al massimo 18. Il Palermo ne ha già il rosa 15, senza le cessioni, e quindi si dovrà lavorare tanto in uscita. Arriva un giocatore classe 2000 che non occupa, ripeto, non occupa lo slot da over perché è un classe 2000. È un giovane, piede destro, vi raccontano di lui, ditemi se lo conoscevate, fatemelo sapere questo tramite un commento, e arriva dal Monza che è in Serie A, quindi è un colpo dalla Serie A, ok? Ma non so cosa scriverò nel titolo, ma comunque è un colpo che arriva dal Monza che è salito in A lo scorso anno. Davide Bettella che nell'ultima stagione però non ha giocato da titolare, mentre ha fatto molto di più la stagione precedente al Monza. Vi dico cosa ne penso di questo giocatore, e poi parleremo di dove potrebbe giocare, se giocherà titolare, perché sono delle mie idee, quelle delle mie ipotesi. Allora Bettella è, ripeto, un classe 2000, piede destro, alto, molto agile, ha un senso della posizione veramente ottimo, me ne parlano molto bene da Pescara. Lui ha giocato inizialmente col Padova, se non sbaglio, perché è nato a Padova, se non sbaglio, ed è del settore giovanile però, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, con cui ha vinto anche un campionato, penso. Comunque l'Atalanta nel 2018 lo ha pagato ben 7 milioni, non sono briciolini, però sono quelle trattative che a me non è che piacciono così tanto, è di quando si parla di giovani. Comunque l'Atalanta lo pagò 7 milioni dall'Inter, dal settore giovanile dell'Inter, per portarlo a Bergamo. A Bergamo però non ha avuto fortuna, è stato mandato sempre in prestito. Ha la bellezza di 60, un po' meno, sui 58 presenze in Serie B, in cadetteria, ottime per essere un classe 2000. Ricordiamoci che purtroppo è il brutto del calcio in Italia. In Italia se ha 17-18 anni non sei nell'elite del calcio, vuol dire che per molti sei una pippa clamorosa. Mentre lui è un classe 2000, ha 22 anni, quindi perché i 2000 hanno già 22 anni, e io che sono un 2002 ovviamente lo so, ed è comunque un giocatore di prospettiva. Per me è un buon, un ottimo giocatore per il futuro del Palermo, perché comunque arriva dal Monza, arriva da Galliani. Galliani diciamo che un minimo esperto di calcio lo è. Lo strappiamo in prestito con diritto di riscatto, quindi qualora dovesse far bene il Palermo eserciterà, si spera, il diritto di riscatto, altrimenti ciao bello, ti salutiamo. Non è ancora ufficiale, però ne ha parlato il mio panettiere di Marzio, e quindi mi sembra giusto parlarvene, raccontarvi cosa so di lui. Ripeto, da Pescara me l'hanno parlato molto bene, lui ha giocato col Pescara e col Monza. Mi ha scritto in privato qualche mio fan di Pescara, dicendomi che è un giocatore, è un difensore moderno, non è quel difensore roccioso che ti spacca le gambe, ma che cerca l'intervento, è scivolato, è molto bravo, è pulito negli interventi, e ha classe, perché è un giocatore che comunque in Serie B ha collezionato anche dei gol e degli assist da centrale, che non è una cosa scontatissima nel calcio d'oggi. Penso che sia un ottimo colpo, scusate, mi ho tirato un calcio al tavolo, penso che sia un ottimo colpo, ma adesso parliamo, e ripeto, voglio sapere la vostra, perché questa è la mia idea e l'ho già scritta nel gruppo Telegram, quindi dovete entrarci nel gruppo Telegram, cazzo, entrateci. La mia idea è questa, lui è un piede destro, noi siamo rimasti con Baldini lo scorso anno, e Baldini usava le coppie mancine, cioè i difensori mancini a sinistra e i difensori destri a destra, quindi avevamo la coppia mancini somma a destra e Marconi per rotta sinistri entrambi. Allora, lui è un destro, quindi Nedel Cioru, Nedelsiaru, Yonuts, l'amore della mia vita, chiamatola come volete, gioca titolare, sarà lui il titolarissimo a destra. Mentre a sinistra c'è comunque ancora il nostro muro, Ivan Marconi. Quindi lui essendo destro, la mia idea è stata questa, sarà la riserva di Nedelsiaru, giocando col piede destro, o potrebbe essere il titolare? Io penso di no, ok? Io ho quest'idea che il Palermo lo abbia preso per non occupare uno slot, e per magari potersi liberare di alcuni giocatori che sono ancora lì in difesa. Allora, il primo ovviamente vi dico somma, è arrivata la notizia ancora, ma se ne parla da otto anni, somma, ti prego, vai, vai. Se ne parla, se hai parlato ancora di Foggia, somma, quindi Boscaglia, per favore. Non so se si farà comunque la trattativa, se ne hai parlato di nuovo ancora oggi, dopo che non se ne parlava da settimane. Ma soprattutto Lancini, perché adesso, possiamo dirlo, anche Lancini è in discussione, perché essendo arrivato un classe 2000, e ricordiamoci la regola degli over che è molto importante, ascoltatemi bene, perché la regola degli over è molto importante, perché è una regola, va rispettata, con l'arrivo di Bettella, anche il posto di Lancini, che per me era praticamente mezzo sicuro, come riserva, ovviamente, e sapete quanta stima io abbia nei suoi confronti, con quanto mi piaccia come difensore, e quindi Bettella probabilmente prenderà il suo posto, quindi sarà la prima riserva in Del Siaro, con un giocatore che comunque ha esperienza in serie B, è vero, pure Lancini c'ha esperienza in serie B, ma comunque, a mio parere, il Palermo cercherà ancora un difensore centrale, col piede Mancino, da copiare, o come riserva, comunque di Marconi. Quindi, sempre non di Federico. Quindi, secondo me, le nostre trattative in difesa non sono ancora finite. Questa è la mia idea, è la mia opinione, ripeto, Bettella è un ottimo colpo, soprattutto perché non occupa lo slot, perché arriva da una squadra, comunque, che ha vinto il campionato, dove non ha giocato tanto, ma lo scorso anno si ha esperienza in B, è giovane, e può soltanto che crescere con noi. E io spero che possa far bene. Ovviamente, aspettiamo che prima arrivi l'ufficialità. Comunque, ragazzi, ditemi la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi se la pensate come me, sul fatto che potrebbe arrivare al post, potrebbe giocare come prima riserva, dietro nel Delsiaro, e quindi la cessione di possibili lancini, anche a questo punto. Questa è la mia idea, io vi aspetto stasera, in live, sulla piattaforma di Viora, quella che non si può nominare, cercate con Dispa, vi aspetto tutti, un bacione, parleremo tanto di mercato, e ci divertiremo, sempre e solo, forza Palermo, iscrivetevi o!